Raffaele, ragazzi buongiorno. Raffaele, una richiesta specifica di un follower. Voglio dare di più a letto. Puoi consigliarmi qualcosa che non sia come i medicinali, ma che sia efficace come i medicinali? Allora, dico subito, noi non abbiamo medicinali perché non li possiamo vendere, che le vende la farmacia. Noi abbiamo delle pillole che sono Viagra naturale che possiamo vendere. Eccole qua, si chiamano Gold Max. Due pillole all'interno, ne prendi una per rapporto, non tutte e due nella giornata e fai due rapporti. Quanto tempo prima vanno prese? Mezz'oretta, 40 minuti prima del rapporto. Ti prendi questa Gold Max Viagra naturale. Provare per credere. Mi fido di te. Fidati di me, non vai una sola volta al rapporto, ma vai... Tutta la giornata. Con queste vai due o tre volte, ti devono frenare. Perfetto, perfetto. Dove le troviamo? A Pozzuoli e a Casoria, ce le abbiamo disponibili nello store. Ce le abbiamo anche sul sito www.bultempedelleros.com, le potete acquistare. Facciamo spedizione in tutta Italia e vi arrivano il giorno dopo. Se state nei 20 km dallo store di Casoria, vi arrivano dopo mezz'ora con la consegna a domicilio. E poi da sera fate i fuochi d'artificio. Ti prendo sulla parola? Sto qua. Mi commenti sotto al posto, dopo che le comprenze non hanno funzionato, commentami, non hanno funzionato. Ma se hanno funzionato mi commenti, mi fai la recensione. Va bene, va bene. A parola. Ciao.